Buonasera ragazzi, buonasera YouTube, buonasera agli amici della live di Twitch che mi hanno tenuto compagnia dalle 20 e 30 di stasera e allora commentiamo la prima sconfitta meritatissima della Juventus di quest'anno prima ovviamente facciamo i complimenti a una Lazio che è stata bellissima ha trovato un gol del pareggio che io l'ho detto anche in diretta veramente stupendo cioè un Luisa Alberto stasera che aveva un piede d'oro un piede fatato che ha fatto i due assist meraviosi quindi la Lazio ha meritato ampiamente la vittoria non solo perché la Juve ha giocato male ma proprio perché la Lazio ha giocato bene quindi non stiamo sempre qui a dire che la Juve è artefice del suo destino no, la Juve si è impegnata anche secondo me stasera non ho visto una Juve sfiacca è una Juve che ci ha provato, solo e semplicemente non ci è riuscita però volevo leggervi un attimino dei dati che sono i seguenti la Juventus aveva la miglior difesa con 12 reti adesso Zomba ha 15 reti subite la Lazio da 14 va a 15 e anche la Roma a 15 quindi la miglior difesa del campionato è l'Inter con 13 reti subite la Juve come mai subisce tutte queste reti? perché il gioco di Sarri è un gioco offensivo che proietta tutto in attacco bla 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 vedo le reti fatte dalla Juventus ne erano 25 con stasera quella di Ronaldo 26 poi vedo che l'Atalanta me ne fa 37 il Cagliari me ne fa 29 3 in più della Juve la Roma me ne fa 26 come la Juve l'Inter me ne fa 31 la Lazio me ne fa 33 dopo stasera me ne fa 36 quindi mi chiedo ma stiamo davvero a dire che il problema di stasera era il fallo dal limite su Matuidi? perché così? no l'espulsione di quadrato? ah poteva non poteva? no e qui il problema secondo me è di fondo nella costruzione di questa squadra perché sono del parere che il problema principale della Juventus sia come alcuni anche mi hanno fatto notare mi hanno fatto notare su Twitch il problema è proprio questo cioè la Juventus ha probabilmente una rosa costruita non adatta per il gioco di Sarri ora detta così può sembrare va bene strike ma arriva sconfitta e ci mettiamo a fare queste cose in realtà io volevo farvi notare che ad aprile a maggio di quest'anno hanno prolungato il contratto a Mandzukic cioè mi ricordo proprio la conferenza stampa con tanto di allegro stretta di mano e conferenza stampa di tutti felici aveva prolungato il contratto a Mandzukic poi arriva Sarri e Mandzukic è fuori rosa quindi è chiaro che questa squadra non è stata programmata mesi prima dell'arrivo dell'allenatore e allora hanno preso un allenatore con l'obiettivo di adattarsi lui alla rosa e anche in alcune conferenze stampa Sarri ha detto proprio questo quando gli dice quando vedremo il gioco di Sarri quello bello visto col Napoli lui ha detto ma non è detto che sarà la Juve adattarsi a Sarri magari sarà Sarri adattarsi alla Juve il problema è che a che cosa serve comprare Sarri per adattarsi alla Juve mi ricordo tanto tempo fa quando l'Inter di Moratti prese Gasperini con malenature e con la sua difesa 3 andava malissimo e ci fu uno struscione brillante dei tifosi dell'Inter che dissero prendere Gasperini e chiedere la difesa 4 è come andare a Mignotto e chiedere le coccole credo che quella frase dei tifosi dell'Inter molto sagaci è precisa cioè prendere poi Sarri e dagli un centrocampo con Matuidi con Kedira, con Emre Can tutti i giocatori tra l'altro presi l'anno scorso cioè non va cioè è un rabbio, un rabbio che tanto voleva parate ci voleva sto rabbio, lo adorava Agnelli ma sono questi i centrocampisti di cui ha bisogno Sarri perché a me pare che veramente la Juve non sia né carne né pesce è una squadra che fa delle belle trame offensive come il gol del vantaggio di Ronaldo ma ha subito 4 gol in due partite col Sassuolo in casa e Roma con la Lazio riesce a ottenere un punto in queste due partite non c'era la Champions non c'era nessun impegno è scesa in campo anche, ripeto, con una certa grinta e quindi, e poi giustamente mi dice qua anche l'idea di Gilgamesh dice una cosa giusta i nostri centrocampisti poi non segnano a segnare sono sempre gli stessi o c'è la sblocca Di Bala, c'è la sblocca Iguaini c'è la sblocca Ronaldo eppure, e quindi, ecco, Sarri che merda adesso magari la buttiamo proprio sulla arrabbiatura è ovvio che quando vediamo delle belle trame offensive come il gol visto con il Sassuolo mi è piaciuto, cioè il primo gol, pure bello il gol che ha fatto Bonucci col Sassuolo il gol fatto stasera della Juve con Ronaldo finalmente migliore rispetto alle ultime prestazioni nel primo tempo soprattutto io dicevo, ma però è bello giocare così però poi vedi una squadra che non va con il Sassuolo abbiamo rischiato prima un contropiede, poi ne abbiamo rischiato un altro abbiamo preso il gol, poi abbiamo fatto l'errore in difesa poi è vero, stasera siamo stati anche disattenti perché Di Bala non era in forma e a un certo punto sull'1-1 ci viene regalato il palone a Di Bala che l'ha tirato a Stracoscia cazzo Paolino, però proprio tu quindi, per l'amore di Dito, sono anche poi quegli episodi la serata storta è vero, magari Di Bala buttava quella palla dentro e non stavamo qui a fare questi discorsi sul centrocampista preso da paratici per Sarri perché magari vincevi la partita eri primi in classifica e tutto andava bene è vero, però poi alla fine succedono certe cose e tu non puoi guardare l'episodio perché l'episodio lo puoi guardare nella finale a giugno dove ormai non ti interessa più niente ma qui il campionato è ancora lungo la stagione è ancora lunga e tu non guardi solo per il risultato perché alla fine, se guardiamo siamo due punti sotto con la sfida diretta in casa il campionato è ancora vincibile con un Inter che sta comunque andando veramente molto bene per l'amore di Dio ne ha perso uno e ne ha pareggiate due quindi sta scassando di brutto però non puoi guardare solo questo e guardare proprio la prestazione anche perché diciamo puntiamo sempre un po' alla Champions noi lo ammettiamo e quindi il problema è questo Parri si è palesemente adattato alla Juve è vero sembra più adesso lui che si sta adattando alla Juve che viceversa provando comunque a dare qualche bella trama offensiva perché ripeto il gol anche di stasera è stato bello però per la seconda volta va in vantaggio e poi la seconda volta ti fa rimontare e ancora una volta le debolezze di centrocampo perché Bentancur stava giocando benissimo è uscito Bentancur è entrato a Mereciano non si è capito più un cazzo la Lazio la parte finale del primo tempo ha iniziato a giocare bene l'ha pareggiata se l'ha meritato anche il pareggio nel secondo tempo la partita equilibrata e poi ancora una volta sti cacchio di contropiedi i contropiedi di qua e una volta il contropiedi che rischi e una volta il contropiedi dell'espulsione di Quadrato il contropiedi del gol di Savic e poi il contropiede che ha causato il rigore e un altro contropiede dopo e il contropiede finale del terzo gol troppi contropiedi una grande squadra non può appena si ritrova in dieci uomini sull'uno a uno tracollare e prendere tre reti una grande squadra una grande squadra si porta avanti le partite anche sul magari ti porta a casa il pareggio però non tracolli in venti minuti trenta minuti perché ha un uomo in meno diciamoci la verità quindi è una Juventus che adesso dovrebbe secondo me il problema di Nainggore nella tesi vabbè qui state parlando di fatti vostri è una Juventus che in questo momento si è troppo adagiata sui risultati che sono arrivati così il gol all'ultimo con la locomotive il gol all'ultimo allora adesso è una Juventus che deve avere la batosta deve fermarsi e deve dire ragazzi abbiamo anche dato tanto stasera perché non è che non ha speso la squadra ha dato tanto e non abbiamo portato a casa il risultato allora dobbiamo capire perché abbiamo subito anzi scusate ho sbagliato l'ho detto due reti tre reti stasera quindi cinque reti in due partite abbiamo subito troppe reti e dobbiamo capire perché allora magari cerchiamo di migliorare le marcature preventive cambiare qualcosa Sarri dice che con Bernardeschi lì rischiamo non lo so trovi lui un sistema ad esempio Di Bala se non ha giocato bene se per te Bernardeschi è un uomo di grande equilibrio allora perché lo toglie lo toglie di Bala a sto punto per mettere Danilo capirà poi un Danilo che onestamente ragazzi se la centrata ha fatto quel tiro di sinistro che mi è uscito il vomito mi è uscito proprio il vomito quindi c'è da capire che se a gennaio la Juve poi spenderà qualcosa perché secondo me c'ha da spendere qualcosina la Juve perché ci sono tantissime cose che non vanno dopodiché non è il problema il campionato il problema dopo otto anni penso che la Juve possa anche rinunciare a un campionato però se vuoi iniziare un ciclo ci credi in Sarri va bene è un anno di transizione magari non vincerei nulla ci può anche stare perché un anno di reset può anche far bene anche ai tifosi secondo me che si scremano un pochettino però mi costruisce una squadra adatta per il prossimo anno ok ripeto tanto l'importante è quello comunque è una fase difficile è stato un turno alla fine anche questo a favore dell'Inter nonostante il pareggio di ieri comunque c'è tempo ripeto sono solo due punti sotto può succedere di tutto può anche vincere il campionato all'Atalanta può succedere di tutto ancora l'importante però è capire adesso sedersi a un tavolino non siamo in una crisi come quella del Napoli per l'amor di Dio che hanno problemi enormi rispetto ai nostri però una piccola crisi c'è proprio di concezione di filosofia di gioco dobbiamo capire sta roba comunque vi saluto grazie mille a voi di Youtube e adesso ci salutiamo anche con gli amici di Twitch ciao ragazzi